E vabbè ma a me non sono canzoni che porto io, ma non è vero che non sono più famoso come prima perché dove sono andato a fare i bagni la gente si è fatto le foto con me, io ho filmato gli autografi, ok? Ciao ciao, e già ma mi meraviglio di te, io ho pure 50 anni, se no te mi hai detto a guardare queste cose qua, dai, fai la persona seria, ok? Ciao ciao Una bella domanda mi hai fatto perché uno su YouTube mi ha scritto una canzone però senza la musica con me, faccio, capito? Ciao ciao Bella domanda anche questa, ma vi divertite proprio a fare queste domande, non te lo so dire, non te lo so dire, ok? Ciao ciao E Cinzia non lo so perché devo fare un attimo delle modifiche a Instagram, ok?